Ciao ragazzi, vi ricordo che in descrizione trovate il link di MMGA, il sito di credi più veloce, sicuro e affidabile in circolazione per credi di FIBA 18, anche per FIBA Points. Mi raccomando, qui sotto nei commenti trovate anche il mio codice ZECCHINET, lo andate a comprare lì con il mio codice ZECCHINET, come ho già detto, ditevi come vi trovate su quel sito, niente, io vi ho rubato solamente un secondo, ci sento nel video, ciao a voi. Ragazzi, registro questa clip non appena aver finito di editare tutto il video, vi esorto a lasciare il like prima che inizi il video e iscrivervi al canale del ProPlayer che ha fatto il video con me, trovate il link del suo canale qui sotto in descrizione, trovate tutte le sue informazioni, andatevi a iscrivervi perché porteremo un video a settimana insieme su questi pack opening e inoltre vi ricordo che queste magliette a calcio che vedete qui, trovate il link qui sotto in descrizione, per acquistarle usate il codice che trovate qui sotto in descrizione, costano pochissimo, è il sito di magliette più economico in circolazione, veramente questa maglietta del Real Madrid fatta così bene l'ho pagata solamente 17€ con il mio codice sconto. Quindi andate lì ragazzi e mi scuso inoltre se la webcam la ghicchia un pochino, veramente non ci ho potuto fare niente, l'ho notato dopo e non ci ho potuto fare niente. Mi raccomando per questo video superiamo i 400 mi piace ragazzi così che la prossima settimana magari lo facciamo in live. Iscrivetevi qui sotto nei commenti se volete il prossimo spacchettamento insieme a Diego in live oppure in video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, niente, noi ci sentiamo nel video, ciao a tutti. E buonasera ragazzi e bentornati in questo unissimo video sul mio canale come sempre sono Zecrimo Design, no non è vero non sono più Zecrimo Design, adesso sono Zecrimo. Allora ragazzi adesso siamo qui, come vedete non siamo più su Xbox, siamo su Playstation, come vedete il titolo siamo qui in un pack opening che spero nel titolo abbia scritto abbiamo trovato Hazard. Spero, adesso non lo so Giovanni del futuro dimmi qualcosa di buono. Siamo qui però che questo qui non è assolutamente il mio account come capitale allo storico e dal posizionamento in Food Champions adesso non si vede perché devo riscatto i premi. Sono qui però con un pro player, sono con CrazyFatGamer, presentati. Ciao a tutti ragazzi, sono CrazyFatGamer, campione italiano di FIFA 16 e poi vabbè tutto il resto potete vederlo sulla pagina Facebook, è tutto lì. Eh sì appunto, lascerò qui sotto in descrizione il link del suo canale e tutti i suoi link utili. Andatevi a iscrivervi assolutamente perché porteremo una volta a settimana i premi della Food Champions. In secondo me ragazzi, iscrivetevi al suo canale perché penso porterai non so qualche tutorial, qualcosa per insegnare a giocare. Sì sì ci sono già dei tutorial, ci sono i moduli delle squadre ovvero come quello del Real Madrid, del Barcellona, le squad building di 80k, 100k eccetera eccetera. Ragazzi e quindi penso più di lui una mano nessuno ve la possa dare su FIFA e perché bisogna sempre imparare da chi è più bravo. Nel frattempo, prima di riscattare questi premi che penso che lui stia con un'ansia incredibile, voglio vedere un attimo la sua squadra. Allora lui gioca, mi ha detto, con un 4-4-2 difensivo e lui ci ha sempre giocato con questo modulo, giusto? Eh sì esattamente, è da tre anni che ci gioca questo modulo. Allora praticamente mi ha detto che lui inizia così in partita, poi una volta inizia la partita sposta Griezmann esterno, Ronaldo qui e questo così, giusto? Tu fai solo questo? Esattamente, esatto. Fammi vedere un attimo quanti gol ti ha fatto Ronaldo. Mazza, mazza 64 partite, 128 gol. Eh questo qua è Cristiano Ronaldo. No vabbè poi ci sono io che sono in pari con i gol e partita e mi vanto. Vabbè ok. Ok, mi metto vergogna della mia vita, però ragazzi questi qui sono gli scorsi a parte. Adesso apriremo i suoi pacchetti che sono pacchetti, li scattiamo. Sono pacchetti, vediamo di cosa. Pacchetti, Foot Champions, Weekend League fuoriclasse 1 ragazzi. Ovviamente una cosa incredibile mi ha detto che di poco non è riuscito a fare top 100 perché io adesso non ci gioco su PlayStation, però mi ha detto che su PlayStation ci vuole 38. Quanti crediti ti ha dato già che non mi ricordo? Quanti crediti ha dato? 120.000. Mi pare 120.000. Ok, roba di nulla. Vediamo cosa abbiamo a disposizione per questi pacchi. Ovviamente c'è sempre il bug dei due pacchetti che in realtà sono 4, però io voglio farvi un attimo il Team of the Week. Lui mi stava bestemmiando console perché vorrei aprire subito questi pacchetti. Ok. C'è ragazzi un bel popò di roba. C'è Insigne, Vidal, Hazard che può diventare ATT, Icardi 87, Nainggolan, Mustafi, Neto e ragazzi poi c'è tanta altra merda. Però la cosa positiva è che sono tutti 82 più, giusto? Esattamente, almeno da quello che so io sono 82, poi se troviamo un 78 mi sbaglio però. Se troviamo un 78 penso che mi lancio dal balcone. Se troviamo un 78 bravo esattamente, lo faccio anch'io. Allora insieme a questi, no non sono 82 più. Vabbè, apri e vediamo cosa trovi, dai 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 dai. Apriamo prima questi qui, apriamo prima questi qui. Io veramente non so cosa, questo qua è pure il mio primo pacchetto ai 100.000 di lutto viva. Allora raga, ti prego, fagli uscire qualcosa di buono. Ma tanto non trovo niente, vedrai. Ma sì, stai tranquillo che secondo me troviamo... Il giocatore che punti da acquistare con tutta la somma dei crediti, qual è? Ah, a proposito, raga, ma sono le 7, aspetta fammi uscire un attimo. Non è uscito un cazzo? Ah, ecco le! Ah, sì ci sono, eccoli, eccoli. Ma sono usciti in prestito? Eh, beh, aggiungeranno anche gli altri. Cioè c'è Ferdinand, Henry. Ma non sono uscite che le vuoi fare, sono uscite solo in prestito. Ah no, eccola. Eccola, eccola. Dai speriamo di fare i crediti per fare questa sfida, dai. Magari lo troviamo nel pacchetto Speriamo in qualcosa di buono Dai, primo pacchetto hai 100.000 Dai Vediamo un po' Speriamo in bene Ah, le bandiere ci sono Qualcosa di buono, dai, qualcosa di buono Argentina ATT Iguain Non posso esultare, io esulta tu Non posso esultare, io sono napoletano Dai, non mi fa esultare Iguain non è male, dai Eh, poteva essere da guerra Guarda che ti è andato bene Ah no, giustamente, potevamo già esultare Perché Icardi non poteva uscire Giustamente Esatto, perché è IF Quindi era workout assicurato, vediamo un po' cosa c'è Che è 90+, infatti Allora, adesso viene il bello Adesso usciamo Rientriamo Allora Io spero Qualcosa di bene Non vorrei fare danni Oh, se trovi Hazard Me li apri te per sempre Io te lo dico Sto sudando Allora Ti prego Ti fa qualcosa di buono Dai Vai Ti prego Ti prego Dai Fa che sia del Belgio Speriamo Ti prego, ti prego Attenzione Brasile Brasile Cosa c'è Cosa c'è Nizia È Dante Marò Dai Che tristezza Che tristezza No Ua, 3-3 Brasile Ah Maronna 15.000 15.000 12.000 Beh, ottima Te li inviamo tutti quanti al club Dai, maronna Sì, sì Brasile di merda Speriamo in bene in questo Vai, questo qua Sempre al tuo 3 Vai 1, 2, 3 Questo qua Ti prego, ti prego Ti prego, ti prego Qualcosa di buono Dai, dai, dai Ti prego Attenzione Germania, Mustafi No, nemmeno No Dai, che portiere Cioè, abbiamo trovato Zieler Zieler Ci rendiamo conto, Zieler No, aiuto, Zieler No Castro Mali Mustafi Mi ha trollato Eh, questi qua sono i miei if settimanali Ogni volta trovo questi giocatori No, raga Però non è giusto Che uno fa fuori Classe 1 Cioè, cazzo 36 vittori ho fatto Ecco Mannaggia Quello che si trova con 36 vittori Guarda, io veramente Quando vedo queste cose Mi fango allibito I guai non lo puoi mettere al posto di Ronaldo La stessa cosa Sicuramente Lo farò in questo michele league Comunque, raga Adesso non è finito Perché andremo ad aprire anche i pacchetti Sul mio account Che se trovo qualcosa Mi sento in colpa Perché Non ho trovato niente Crazy Quindi, raga Per segnalità Deve iscrivervi al suo canale Perché Almeno due walkout li ha trovati Poteva andarti peggio Sì, sì Molto peggio poteva andare Dai Quindi, cioè, dai Sono contento Sarò per settimana prossima Esatto Settimana prossima Massimo Comunque ragazzi Adesso siamo sul mio account Di scattivare il foot champions Ragazzi Non vi mettete paura Perché ho fatto top 100 Della mia sedia Perché ho fatto oro tra i ragazzi 30.000 crediti Più Un pacchetto da 50.000 E due da 35.000 crediti Allora c'è sempre lo stesso Team of the week Giustamente Tra una console E l'altra non cambia Comunque Secondo me Adesso Questo weekend link Sarà abbastanza scriptato Per chi ci sta Non so qui Loro che tengono Enri in prestito Che Che paghe Mamma mia Smolli E ancora Smolli Anche Ferdinand E Roberto Carlos Che Beh Vabbè Roberto Carlos Almeno Più che altro Ferdinand Ferdinand me lo faccio sicuro Sicuro proprio Eh sì Comunque Non perdiamo Non perdiamoci in chiacchiere Perché sono pacchetti Abbastanza Scialli Avremo subito il primo pacchetto Da 35.000 Mega ovviamente Vediamo un po' Cosa ci troviamo Dovrebbe essere luce appunto Vediamo un po' Cosa sei Spagna Esterno sinistro Vitolo No come si chiama Vitolo Là come si chiama Sto coglione di merda Magari muore Che tristezza Sti pacchetti Uno bestie Mi notare Il fine settimana Oh Un pacchetto argento Raga Non ci credo Comunque ragazzi Adesso avremo Quell'altro pacchetto mega Vediamo un po' Cosa sei Ti prego qualcosa di buono Almeno Ok Dovrebbe essere luce Non è luce Perfetto Ok Perfetto Le ultime parole Famose Ci rimane L'ultimo pacchetto Che da Oh Hazard Fratello scemo Però Quanto costo Mille crediti Ma guarda Non voglio controllare Non voglio piangere Comunque ragazzi Siamo qui Con l'ultimo pacchetto Del giorno Cioè della settimana Più che altro Vediamo un po' Cosa ci troviamo Che questo qui Questi crediti Che troviamo Varanno anche aggiunti A Rudy Tutto Ronaldo Nazzaro Che stiamo facendo Niente Avremo sto pacchetto A 50k Speriamo in qualcosa di buono Ok luce Ti prego qualcosa di buono Italia Portiere Perino Ovviamente Anche te E non è buffon E non è buffon E un bel dito Su Per dove non batte il sole Allora Diciamo che questo pacco Possa avvenire qui Sfortunatamente Cresi Non ha trovato niente Diego Speriamo di rifarci Per la settimana prossima Non c'è problema Mi accoglio Iscrivetevi al suo canale Veramente ragazzi Per solidarietà Raga Rai Non ha trovato Praticamente nulla Da quei pacchetti di merda Pogba di merda Potevi uscire Se usciva francese Penso che Mi sentivano pure I vicini Che sono interisti Niente Io direi Che per questo video È tutto Passate in descrizione Ovviamente da Diego A iscrivervi al suo canale Diego Ti lascio una parola finale Ma Grazie per il Per l'invito In questo video Spero di vederci Settimana prossima Per un'altra spacchettata Magari con una top 100 Quindi Avremo dei pacchetti Ancora più potenti Cioè Troveremo sempre qualcosa Di meglio Confronto questi qua Che abbiamo fatto la merda Insomma E niente Noi ci vediamo Settimana prossima Con un prossimo video Sempre con un nuovo video Bella ragazzi Bella ragazzi Bella ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti